Diciamo il problema del posto sottolineato. Come diceva il consigliere del delegato Stanzione, non ha di chiusura del bilancio reale, ha concentrizzato quella somma, quella risorsa, e che si sono avviati nel primo, per avere una difficile sovrapportunale di atto delle decisioni finanziarie per l'Italia. Perché il consigliere Stanzione ha sottolineato che si è stato fatto un incontro a base del 27, ero quasi a cittadini del delegato del Signore, e avevano fatto un giugno di comunicazione per quanto non c'è un'altra cosa. Allora, con la somma di economizzare, noi non l'abbiamo fatto, perché secondo tecnici abbiamo economizzato tutto il numero di dei suoi sette, a quanto riguarda il problema. Allora, questo è il problema.